Il rinnovo della convenzione è tanto attesa dalla Tercop arrivata, ma solo per sei mesi. Una proroga mini, come era già stata annunciata nei giorni scorsi dall'assessore di competenza di Giovanni Giacomo alla stessa cooperativa sociale. Una proroga alla cui scadenza dovrà necessariamente eseguire un bando di gara pubblica per quanto riguarda l'assegnazione della gestione dei parcheggi a pagamento in città. Un bando malgradito dalla stessa cooperativa, ma questa mattina in commissione consigliare si sarebbe fatto un po' il punto della situazione con la promessa di salvaguardare il più possibile 28 posti di lavoro della stessa Tercop da parte dell'amministrazione comunale. Quello che è emerso dalla commissione, ma è quello che è stato sempre detto dal sindaco, da me, da tutta la maggioranza, è quello della salvaguardia dei posti di lavoro. Dunque si attueranno tutti quei presupposti legali necessari per cercare di salvaguardare tutti i posti di lavoro. Tutti e 28 i posti di lavoro, quindi lei cercherà di salvaguardarli? Noi metteremo tutti quei criteri di legge che ci permetterà di salvaguardare, perché l'obiettivo di questa amministrazione è salvaguardare i posti di lavoro. Dunque abbiamo un attimino fatto, fra virgolette, retromarcia, perché in un primo momento avevamo detto che si metteravano tutti i parcometri, che però andavano a cozzare con il discorso del personale, perché se mette i parcometri giustamente il personale necessario è minore dei 28, daremo la possibilità a chi si aggiudicherà la gara di optare o per i parcometri o per il personale, dando maggior punteggio a chi metteranno il maggior numero di persone, cioè 28 persone. Iachini le è apparso soddisfatto? Io penso che tutta la commissione, Iachini era presente in veste di presidente della Terco, però non ha preso parola, era soddisfatto, la commissione è stata molto proficua. Il sistema parcheggi quindi per adesso rimane tutto così com'è, in attesa della gara? Noi speriamo, abbiamo fatto già tutta la ricognizione in centro storico, come ho detto prima daremo sei mesi di proroga, sicuramente in questi sei mesi riusciremo ad attuare la gara e poi sarà il nuovo sistema di parcheggi che prevederà la nuova sosta in centro storico e quella riservata ai residenti in tutto il centro storico.